Che bello, che bello, ottimo. Allora, senza ulteriori indugi, andiamo su Overwatch, vediamo se riusciamo a far workare tutto, vediamo un po', vediamo se la roba worka, qua, se worka, ecco, perché l'altra volta Twitch mi aveva dato dei piccoli, leggerissimi problemi, proprio leggeri, una cosina da niente, si era letteralmente esploso tutto, letteralmente, non si sa perché, bene, ottimo, vediamo se riusciamo a giocare, allora, perché si tratta di fare tutorial, è semplice, è tutorial, ce lo manda subito il tutorial, cioè ce lo fa subito, in tutti che si tratta del tutorial, è una cosa veloce, è proprio una cosina da nulla, vediamo un po' se worka tutto il resto, però prima di incominciare così a bomba, devo spammare la nostra live su Instagram, vediamo un pochino, di non fare cazzate, e di iniziare, appena ho finito di spammare, inizieremo con la live, proprio vera e propria, un attimo, due secondi, che devo far workare tutte queste cose, minchia, ma quanti messaggi ho su Instagram, vi giuro che vi risponderò a tutti, appena possibile, tanto poi, mentre sono sul treno per Milano, domani, che cavolo, devo partire, Brisco, buongiorno, domani parto per Milano, ecco, c'è anche la gatta, oh, eccola, va, distruzione di massa, da parte del micio, mi ha distrutto la poltrona, cioè la poltrona, la serie viola, volevo comprare la poltrona, quella figa, quella che ho scritto anche Arden Chan, no, c'ho un po' di paura, perché ho paura che questa me la distrugga, me la mangi, me la graffi tutta, perché ne ho due di micio, una stronza, si chiama Malefica, infatti, è buona ma dolce, è stronza ma dolce, proprio un nuovo piatto, stronzo ma dolce, e poi c'ho Milu, che lei è, ha 11 anni, però è tranquilla, me la pezzo di pane, ok, vai, se io ho workato, ora vediamo un po' come, come è Overwatch, vi dico una leggera verità, Overwatch 1, non l'ho tanto piuttosto giocare a Overwatch, Soltanto che, poiché dovevo comprarlo, non volevo comprarlo, quindi ho detto, disba, non avranno mai i miei soldi, e adesso mi hanno conquistato, perché è free to play, quindi, ok, il mio gatto mi ha distrutto la tv, ecco, puoi capire la distruzione da parte dei nemici, Ok, ora che tutto è workato, si va, se parte, togliamo anche lo spinotto, tutto worka, e ora bisogna partire, vediamo se si parte, giochiamo al tutorial, avvio tutorial, Ha chiesto in corso, fammi vedere se questo, oh, se può fare il tutorial, buono, almeno il tutorial ce lo fa fare, come umano lei, proprio, è molto umano il gioco, almeno il tutorial ce lo fa fare, Salve il soldato 76, sono Athena, ti guiderò nel programma di addestramento di Overwatch, eh, ottimo, dove si sarà cacciata? Fatti, aspettami, oh, Tracer, che carina, Cominciamo, usa i comandi per guardare Tracer mentre si sposta nella stanza, ok, da questa parte, l'ho vista, eccellente, ora guarda Tracer che corre al centro della stanza, oh, sto giocando a Overwatch, almeno ci provo, sì, eccomi qua, sì, t'ho vista, Vediamo le basi del movimento, segui Tracer mentre si sposta in giro per l'anno, l'avevo già fatto, però va bene, Continua a seguire Tracer, sì, vabbè, ma chi cazzo è che è tutto a reale, proprio, smesso, Salva sul gradino e attraversa la porta blindata, Vabbè, è carino il tutorial, però veramente Lascia che ti spieghi le basi del combattimento, il tuo ritratto si trova in basso a sinistra sullo schermo, Perfetto, buongiorno Ado, Soldato 76, accanto a esso, compari la tua salute, Bene, se arriva a zero, tu non ho avuto il tempo, non ho messo niente, La tua arma principale è il fucile a impulsi, Lascia che prepari un bersaglio per sparare, Ah, andrei, grazie per il pollo, Indirizza i colpi con il mirino al centro dello schermo, Puntalo sulla destra bot, E spara, Ben fatto, Puoi anche colpire i bersagli vicini con un attacco in mischia, Raggiungi la destra bot, Prendi la mira e colpiscilo con un attacco in mischia, Come la raggiungo? Non posso saltare, Oddio, Mi sono già impanata, Raggiungi la destra bot, Sì, ok, E colpiscilo con un attacco in mischia, Sì, tesoro, Ma come lo raggiungo la destra bot, Se non ci posso saltare? A volte è più facile colpire un nemico con un attacco in mischia, Sì, ok, Ah, ok, così, letteralmente, Ok, va proprio, Aspetto, Tecchi mi aggiungi ci potrei, Lascia che ti prepari un bersaglio più impegnativo, Dopo intanto ci giochiamo, Le silhouette dei nemici come questi a destra bot, Sono colorate di rosso, Ok, quindi, Danneggiando un amico, Vedrà il suo stato di salute, Sopera la sua testa, La maggior parte delle armi spara un numero di colpi limitato, Prima di essere ricaricata, Il numero dei proiettili rimasta, È visibile nella parte inferiore destra dello schermo, Sì, vabbè, Sì, ti fermo, Provo a colpirlo, Ecco, Buongiorno, Ora, Vedremo, In questo momento non sto giocando a porta, Mentre sto provando overwatch, Raggiungi l'area, Puoi attivare scatto, Mentre avanzi, Per correre più veloce, Prova, Oltre a scatto, Puoi anche curarti, Con il rigeneratore biotico, Ok, Per mostrartelo, Devo danneggiarti lievemente, Ma, No, No, Posiziona un rigeneratore attivo, Restando nella zona, Ah, Ok, Proprio così, Oltre, Va bene, Ci sta, Ricorda, Che non potrai più usare, Quest'abilità, Per un breve periodo di tempo, Voi giocare tutte a forza, Deve quanto fare, È mostrato, Sopra l'icona, No, Io sto provando anche, Overwatch, Il tuo fucile, Dispone anche di razzi, Helix, Ok, Puoi lanciare, Una salva di razzi, Nella direzione, In cui stai mirando, Quando i razzi, Esplorano, Danneggiano anche, I nemici vicini, Buono, Fai pratica, Sul bersaglio, Ah, Ok, Io che, Spara i tuoi razzi, Helix, Sui bersagli, Un po', Oltre, Infine, Lascia che ti spieghi, Il funzionamento, Della tua, Un visore tattico, Queste potenti, Se vi va a passare, Sul video, Se vi vedete, Anche poi, Overwatch, Ma devi, Caricarla, Completamente, Prima di poterla usare, Sì, Ok, Lo stato attuale, Della tua carica, E' mostrato qui, Nella parte bassa, Dello schermo, Carica il tuo visore tattico, Danneggiandogli a destra bot, Ok, Dove sono? Sì, Vabbè, Volevo, Ok, Al 50%, No, Volevo tutti vicini, Mi facevo saltare in aria, Con un colpo, Vai, Vabbè, Ok, E' quasi del tutto carica, Il visore tattico, E' carico, Ok, Il visore tattico, Ottimizza i tuoi colpi, Che andranno sempre a segno, Buono, Ora attiva il tuo visore tattico, E distruggi, Bella è la cosa, Sono stati distrutti, Ottimo lavoro, Soldato 76, E' buono, Abbiamo attestrato un soldato, Ma abbiamo perso milioni di dollari, Per costruire gli attestrati, E' vero, E' vero, Come attestare l'N1, Lo vado a spendere un sacco, Per quanto sei all'interno della zona, Progredisci nella conquista dell'obiettivo, Sì, Vabbè, Ma so come si fa catturare la bandiera, Eh, Se con te ci sono nemici nella zona, Il progresso di conquista si arresta, Hai conquistato l'obiettivo, Buono, Quindi, Completato, Bene, Ora voglio, Vado al lavoro, Buono, Ciao Brisco, Ci vuoi gioca? E' già? Adestramento, Non lo capio, Ah, Tutorial, Vabbè, Aprendere base di movimento, Zona adestramento, Scopri gli eroi, Fai prati, Aprendendo le loro armi, La verità, Vabbè, Mandami, Mandami almeno, La zona adestramento, Per favore, Buono, Ascolta, Ascolta, Sì, Prima della tua prossima missione, Rivediamo alcuni concetti importanti, Gli eroi di overwatch, Si affidano al lavoro di squadra, Per completare gli OPT, Sì, Però parla veloce, Puoi cambiare l'eroe selezionato, Da un'area di partetti, Oh, Quando hai selezionato un eroe, Puoi visualizzarne i dettagli, Aprendo la pagina dei dettagli dell'eroe, Bellina merci, Moira, Allora, Sentite, Già così mi piace Moira a me, Già così, Con questa mascherina, La fantasma dell'opera, Mi piace Moira, Allora, Mai, La conosco, Parla, La conosco, Widowmaker, Vabbè, Tutti vogliono essere Widowmaker, Perché gnocca da paura, Fraser, Usa questo comando, Ah, Quest'altro non ce l'abbiamo, Ah, Ma il soldato 76, Ha fatto la barba, È vecchiato, Veramente, Oh, Ripper, Infatti, Moira sembra bipolare, Bella Moira, Cioè, Ci piace per questo, Usa questo comando, Per scoprire, Sì, Sì, Il clino è del junker, Ah, È carina anche questa, E veramente, Quest'altro, Ma io, Senti, Non saper leggere, Ne scrivere, Mi, La mia prima crash, Che appena l'ho vista, Guarda che unghie, Guarda, Siamo gemelle di unghie, Vediamo un po', Ok, L'ho cambiato, Eroe, Ah, Ok, 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 Voglio questo, Ma dai, Seleziona un eroe tanker, Ma allora sei stronzo, Seleziona un eroe tanker, Eh, Tanker, Ovviamente qua, C'è Winston, Vabbè, Allora andiamo a ritiro dei junker, Il mio trono, È dove dico io, Allora, Supporto, E Moira, Supporto, Curano la loro squadra, E seleziona un eroe, Io la libererò, E attacco su questi, Vabbè, Perché non lo trese, Mettono sotto pressione, E ora sai pari, Sebi, Grazie per il follo, Una volta scelto un eroe, Puoi leggere le relative informazioni, O qualsiasi amico, Sì, Io capisco, Lo so, Faffandomo, Vienmazzo, Ci si vede, La buona vecchia castagna, Tick tock, Tick tock, Boom, Dai, Melote, E dov'è i ping? Sono disponibili, Ulteriori opzioni di ping, Se premi e genitano il comando, Boh, Ok, Sì, Eeeh, Che cosa intendi, Super ping? Confì, La tua ricezione, Del messaggio, E' stata ricevuta, Agente, Grazie, Noi, Proviamo a far con me, Ti ho fregato, Di tempo, Noi, 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 come distrugge tanto a destra molto ma senza chiederli ho già lo porto come stai corto? tutto bene? hai completato la parte obbligatoria della tua sessione di addestramento ora puoi disputare una partita di addestramento contro l'IA ripetere il tutorial o affrontare altri giocatori esplora pure la zona d'addestramento voglio uccidere Tracer me lo fai fare? esercitarti con un altro eroe o mettere alla prova le tue abilità dai muori continuerò a introdurre nuovi concetti interessanti man mano che esplori ok quindi ora mi fai combattere con te così buono che bello cioè non c'è nulla ok beh che cagato ok va bene com'è che si esce da questo posto vuolevo andare là però non ce l'ho fatta capo ci servono altri di destra molto cosa quanti soldati abbiamo gestionato con gli ultimi cento uno capo solo uno e se io volessi andare di là che c'era una cosa muori ah tu fai lo scatto ah oddio buono ma quindi se io faccio così oddio ce l'ho fatta eh come si piglia in sto coso eh se lo vuoi prendere ma do grazie popo popo lix si abbandona la partita si vai gioca vediamo un po' non classificata bono andiamo in un classificata partita rapida coda aperta vediamo vediamo no il gioco è gratis per fortuna oddio ti sta venendo la partita bene bene accesso in corso ah meno male torre ok buono grazie popoli grazie per il pollo guarda non posso giocare over perché non metto il mio nome in PS mi dici che non posso giocare per ma come? in che senso? beh io voglio provare Moira io voglio provare Moira non so a che cavolo serva ma voglio provare Moira dalla serie l'umanità è in catena io la libererò sì mi chiamo Marco li vale grazie per il fondo allora l'umanità in catena io la libererò perfetta perfettamente quindi io effettivamente tu che assomigli a Gini mezzo fiorno di fuoco dimmi che cosa devo fare no veramente ti hanno copiato bene hanno copiato bene Gini mezzo fiorno di fuoco è uguale vabbè 2 1 primo round conquistare 9 ma boiale bello vediamo un po' allora con R1 con R1 che ho io ah danni e cure buono buono ok ok il quanto supporto devo fare sia danni che cure ma no mi sono suicidata ma il fuoco di vari grazie per il follo ma no mi sono suicidata ok ah posso anche cambiare l'eroe allora quindi R1 L2 danni R2 tu prenditi le mie cure tu prenditi i miei danni sono parecchi attenzione come si poteva autocurarsi non mi ricordo mi hanno ammazzato mi hanno ucciso io non mi ricordo come si poteva autocurarsi vabbè allora R2 ah ecco R2 per l'autopuida ecco per l'autopuida no che l'ho ammazzato Merda, mi ha ucciso Vabbè, ti ho provato Non capisco i freni, grazie per il pollo Grazie Ok, non sto capendo se sto Fatto Allora Praticamente, critico, critico, critico Allora Ricordami R2, cure L danni 2 Mi do La mazzata Mi posso auto-curare? No, eh Merda Merda Grazie per il pollo, Ronca Grazie Io non sto capendo se sto andando bene o no Ok, hanno vinto loro Probabilmente avrò fatto schifo io Con molta probabilità Devo mettere questo qua Non prenderla sul personale quando farò più uccisioni di tutti, ok? Allora, tu mi sembri che Ricci, che fare C'è tanto in servo per noi Occupiamocene Prendo se muove da solo 5, 4, 3, 2, 1 Vediamo un po' di vincerlo Allora L2 danni R2, cure Ok Ok Può sfuggire Ripeto assistenza Divino arrivo Facciamo rispondere Questa coniglietta morte Grazie 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 Merda Ma il culo Ma il culo Mi hanno massacrato in due Ah ma c'è anche Flamingo Ah però un botto assi Scazzo Venomale Allora Vi salvo io amici Sono in superiorità numerica Tenetelo a mente La panacea per tutti i marati Merda, merda, merda E volevo andare lì a salvare qualcuno Ma sono morta brutalmente Buongiorno Moreno Come morire brutalmente Vabbè questo in realtà non c'è Ok, stop going Sto cercando di sistemare una cosa Ecco vai Ora c'è del per tutto Allora Tutta in critica Davvero Merda Eh volevo No io vedi Sto cagando porto Sto cagando Sto cagando Mio nome è più a sport Lo metti mi dice È troppo lungo pure Non c'erano altre caratteristiche di palle Ma metti solo porto Metti solo porto Oh irruente Madonna Sottomettiti al mio volere Vado 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 E come facevo a scappare da lì Arrenditi al mio volere È colpa le strada Sì a crezare Brutalmente Mio e cinquecenti Eh sì Ho lanciato le une Perfetto Perfetto Eh sì Ho lanciato la palla delle cure Che bello Ho lanciato la palla delle cure Se metto solo porto durante Mi dici che non è il mio nome PS Se non metto il trattino Al basso Mi dici che non potrò giocare Online per tentazione Azione migliore della partita Azione migliore della partita Io Sì Che bello Che bello Quattro è longe i giocatori Vabbè chiudi Oh Genji Sì Sì è overwatch Sì sono in live su twitch Capo miscia Esatto è overwatch Se mi va passate su twitch Veno male Vediamo un po' Non classificata Piatta ma dai Non classificata Ok Vai Virgo Zero settantacinque Grazie per il pollo Sì è overwatch È partita Trovate connessione di serve Ottimo Buono 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 Che carina anche lei La mia vita No Non è la me Comunque sia Ma allora Su overwatch Devi mettere Prima il tuo nome E il tuo nome vero Capito? Poi il nome utente E' più velocemente E' meno che non cambi il nome play No 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 Allora Prima devi mettere il tuo nome Il tuo nome vero Perché non la chiesa che a me E poi devi mettere il tuo nickname 1 Vai Finiamo Conquistate l'obiettivo Io vado con i tank Dalla serie Non so nel leggere di scrivere Vado con i tank Nel dubbio Vado Oh 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 Vado Mi hanno fatto male Veramente Ok Qual era Come si Si curava Non lo ricordo Come La cura Che è una cura No eh Va molto meglio Oh ok Ottimo Meno male Vediamo Attacchiamo Nel dubbio Io attacco Ah Ecco Nessuno che viene Attaccare con me Questa cosa Io che ero Lì E si torna in gioco Eh potrei usare Queste cose Di phrase Però ancora Non l'ho ben capita Non l'ho ben imparata Ok ok Ottimo C'è un tizio lì Uffi Io che cerco Cerco delle cure Cerco delle cure Cerco delle cure Oh si Cure Trovate Buono No Sììììì La matò Io devo scappare Ma siamo conversi Siamo in minoranza Io sto cercando pure Ed eccole l'ho trovate A me da 80 giocatori in quoda No io sono riuscita a entrare subito Davvero subito Non lo so perché No Un ritorno al passato Di merda ho utilizzato Oh ciao Merda infatti Mi serviva un ritorno al passato Non ti rovinare il fegato No non ti sto rovinando il fegato In realtà io mi arrabbio La mia vita no a porto tranquillo Pronta all'opera Merda la squadra B sta vincendo raga Perché Boostiamo Boostiamo Dai Ma no Ma così One shot Che è successo Ho visto volare una mercy Così Ho subito il flattino subito Dove aver subito dei danni Non le taglio Però è una vita assoluta per tutta Eh sì Dai su Prova a capire Nichea Qua Accruccia Abbiamo perso Abbiamo perso Per ora Non ti stai rovinando No io non mi arrabbio mai Sgranchisciti Vai Ok Sgranchita Non se ne voglio Travolgiamoli Come fa Roadog Ah ma C'hai Roadog Bello Ho visto questo Così Lo hai fatto da Jessica Anigri E l'abbè Adesso si fa Ma io C'hai La rabbia con i videogiochi Non la provo quasi mai Vogliono Fabrizio La provo più Più su Multiversus Sai Perché Multiversus C'hai Gioci proprio Compagno A volte Fa cagare Ovviamente Tanto E perdi Che è colpa tua Qui Siamo in 5 E' difficile Dire Ah C'hai E' un po' come l'Odda Ti dici Tutti fanno cagare Ricominciamo Ricominciamo All'andata male Vado Eh erano tutti lì Andrea Hamilton Grazie per il pollo Eh infatti E' erano tutti là Non mi libererete di me Ma Non è male Però ho letto Online che hanno avuto Un sacco di problemi Altra gente Ma io Su Play 4 Anzi C'è Anche il mio ragazzo Ho avuto problemi No Con Da Oddio Che colpo Che colpo Putillo Grazie per aver regalato Un abbonamento Merda Merda Grazie per la copertura Oh ma quella non muore? No, no No, sì No, anche no Anche no Devo trovare le cure, cure, dove sono le cure? Merda Il mio amore ha detto scade domani Io ancora non ci sono riuscita a giocare Sempre una cosa assurda Guarda io sono entrata subito, ho fatto il tutorial e la sono entrata Io non lo so Ho culo probabilmente Però effettivamente il mio ragazzo C'aveva 399 persone Da ieri sera è riuscito a giocare oggi Da ieri sera Sì vabbè ma non abbiamo Non abbiamo manco Sì vabbè Ho paura che quel bio sia il mio ragazzo Ecco il guidomaker è interessante che c'è qui Ad ora Lavoramento che gentilmente mi ha regalato Che vantaggi ho E' il vantaggio di non vedere le pubblicità Oh abbiamo anche Diva adesso Giochiamo Allora Gioca altre modalità per sbloccare Gioca altre modalità per sbloccare Io non so quali altre modalità devo giocare per sbloccare Sto giocando a Overwatch Sì sto giocando Cioè da sola contro Con i random e contro altri random Guarda finalmente Questa pubblicità del canale Guadagni punti canale Con bonus di uno Invece di uno Vero anche L'emota esclusiva Doveste averla Io non ho Dovrei vedere i settaggi Se no I don't know Proprio I don't know Bo Tank Diva Diva un tank Oh no Il figlio tracer Ho anche le motte esclusive Tre sono giusto Sì esatto Tre motte Non sono veloce come una volta Ma sono ancora la pistola più veloce del New West Stai invecchiato male eh Don Marco Buongiorno La mia anima è pura Allora Perché io sembro bassa A confronto a lei Cioè gli arrivo al perineo Come questa E gli altri pg Come si sbloccano Continuando a giocare Continuando a giocare Sblocchi i personaggi Le skin invece le devi comprare Madò Quello era Genji Ma si si vede Madonna Grazie per il pollo Don Marco Vediamo un po' Devo uscire la scossa Tu sei un po' Morto Morto Io non so che cosa dovrei fare O chi è che sta sparando Madonna Madonna Andiamo da qui Passare da qua Madonna Madonna A me basta che si fanno Un pg con una spada E' fatta Ah c'è Genji Genji C'ha la spada C'ha la spada Genji Che vuol dire Tu per un mese avrai tutta la mia stima Grande Allora Vediamo di capire Un po' Ero Perché mi fanno più male Di un dovuto Ok che Tracer Ha una vita Effimera Proprio Quindi prima non l'ha visto Adonna Genji Addio Genji Per scappo Io che ve ne sono andata 3 2 1 Ah si ho capito come giocare Tracer Sei di nuovo qui Genji Oh madonna Oh madonna Nooo Mi diventino sempre di pigiare Ciao Luigi Di pigiare R2 Appena mi attaccano Occhio Che siamo meno di loro Ma come siamo meno di loro Ma madonna Si torna in getto No Tosca Grande Sì Sono Toscana raga Madonna Ok Ok Uno è morto Ok No Minchia Tu colpi Mi ha dato Madonna Massacrata subito Cioè io per fare un danno Gli devo sparare tutto quello che ho nel caricatore Mezzo giorno di fuori Eeeh Vediamo di iniziare No Oh Bene grazie Voi che vi chiusi Su Allora Ho iniziato a nerf Mi piacciono alcuni In questo momento sto usando Tracer Però Ammazzate qualche enti Per favore No No Ah È una bomba Quella Dov'è la cura Dov'è la cura Queri se cura Dai Dammi la cura Buono Bene E vai Madonna Proprio sulla bomba sono andata L'esteralmente Boom Sto usando Tracer in questo momento Oh ho perso il profilo di senale Mi stava avendo un infarto In che senso Ah chiari Quattro a sette grazie a tre polla Sì Io uso Bastion Non do Di insoperti Dipende Eh Bastion Mi piacciono Maira Sì 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 Ma che cazzo Un colpo Un colpo è Cioè Un colpo Un colpo è morta Che c'è Che c'è Un colpo è morto Grazie Ma mori Bastardo Che prima mi hai vissuto Oh Bastardi Vai Solto Che passo spam Tanto E E Aia Vai 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 Cura Bono Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Vai Ora 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 Ritorna Andiamo Spara 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 Buono Perfetto Un colpo Uccidete quel Genji Che se ci viene Toccato Dove cazzo Eh La madonna Chi è Vado Ho provato a far di tutto Poi di salvarmi La vita Ma basta Stiva Che Doll Biscotto Grazie per il pollo Lamedo Grazie per il pollo Eh no In realtà Devo Perché è il mio lavoro Sono una fotomodella Devo per forza Mettere le foto Fa parte del mio lavoro Poi se la gente Pensa altro Non è colpa mia Sono solo foto Inizio Ma dai L'avevo quasi ammazzato Maledetto Genji Mi fanno male le trame Mi va povero Perché Di nuovo Grazie per il pollo Carico In movimento Fremesso Nooo Noi fanno Non fanno niente Ma dico nulla Noi non fanno niente Ma dico nulla In che senso Che è successo Perché devo fare il vaccino Ah proprio il nome virus Ah ok Ok Che mori Ma dico Oddio 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 Moriti Ma madonna Genji Feli Ciao Sconfitta Ehi Per esempio Dura nove anni Sì Vero Per esempio Per esempio Dura nove anni Ah e l'ho già ricevuto Grazie Poteri Ganghi E tossico Ci piace Samu Grazie per il follow Bravo E l'ho già ricevuto Yeah Sono stata brava Cassidy Sì però Allora Cassidy Ha proprio copiato Gil Mezzogiorno di fuoco E tanto che l'ha copiato Dice anche Mezzogiorno di fuoco Cioè Sti cazzi Proprio quando lo copi E sei contento No no È Overwatch 2 Ma stai giocando Overwatch 2 Gigong Ciao Se vi va passate su Twitch Così lo vedete Non so se mi vengono I dolori Alle braccia Febbre Ma la testa Insomma Un po' di tutto Ma come vado nei boschi Dove c'è lo slender Sto a casa A giocare come Arden Bravo Eh ma qui manca un tank Raga In teoria Si può farlo spesso Boh È una frase pop Ormai del film Mezzogiorno di fuoco È una cascata Di chi copia chi Va Niente paura È ora di salvare il mondo Sì ma è proprio uguale Alla skin Cioè Allora Metti a casa La faccetta E diventa E diventa skin Mezzo gioco Di nuovo Con lettera al mese Grazie Grazie per la donazione Signor Feltri Viva tutta la vita Eh di diva ci devo fare i cosplay Anche Cioè ho già le cuffie E la pistola Ma da un po' È da anni Io prima volta che giocavo Come si chiama quello con il teschio Reaper 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 è fighissimo Però ancora non l'ho provato Dopo che se mai prezo Reaper Mi attaccano Adoro Chi prima spara vince no? Non so Hai ancora molto da imparare Qualcuno passa da qui Esatto No 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 Cazzo Sì Bon I am A pro Cazzo È nulla Bastion Fa la mia culo Please Merda 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 Quella è merda Vero? Siamo già tanti Non mi batti Ormai ho capito Dove è la cura Io campero qui Vivo Vivo Con i camping Merda No Dovevo figliare Già anche io Anche ti ho Alla Facciamo un colpo Cariocherico No Adesso Giocando overmocchi Qui sto in mezzo Dai Vabbè Io sono morta Solo una volta Ho fatto un più sustain Di tutti Veramente Prende questa Ritorno al passato I barra foto La chiamiamo La chiamiamo Rivoliamo Pesso Naa Quello con i tecchi È Ripper Quello con i tecchi Ponteggio Prendiamo Perdo sempre Perdo sempre Ciao Proprio così Tipo Sto capendo adesso Come si usa Che bello Che c'è scritto Che c'è scritto Nel tatuaggio Widomir Ok Mi sa che vado Il mitico Andre 96 Grazie per il pollo Vediamo 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 se la ribaltiamo Daniel Boschi Grazie per il pollo Lì c'era un soldato Ok 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 Madonna Quelle tornette Di mezza Hendrick Eeeh Ciao Hendrick È venuto su Overworld Il mitico Da un giorno Allora Magia La cosa giochi Overworld Raga Oh Quanto Madonna Madonna Quei cazzo Quei cazzo Dammi 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 No la vita No Non c'è vita Ma fa culo Allora Dov'è la vita Ecco la vita Oddio Che già Madonna Uh Madonna Madonna Fa molto meglio Tutto 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 Ricominciamo Madonna Scappa 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 Corri te Corri te Corri te Dov'è Dov'è la vita Dov'è la vita Dov'è la vita Dov'è la vita Dov'è diavolo È la vita Mi sembrava Per di qua No eh Sì Meno male Alla fine l'ho trovato lo stesso E la madonna Che c'è qui Come la situazione era quella per entrare Ieri fino a... No io sono entrata subito raga Non so come mai io sono entrata subito Ho fatto tutta ora e sono entrata Quingiuli Buona scuola Pronti per un po' di caos Olè No Arde muore il nemico Festa sbagliata amico Sì può darsi Può darsi Però sono morta due volte stavolta Due volte Letteralmente due volte Allora giochiamo Vediamo Sempre così Vai di qui Vogliamo cambiare personaggio Però con Tracer mi stavo trovando bene Sai com'è Con vita Ritorna indietro Ma stavo giocando bene Muoio poco Uccido poco Muoio poco anche No in realtà Uccido Io con Tracer Se sono modello Overwatch 1 Ah c'è anche il modello Overwatch Ci sarà il Luca Comics Yes sir Ci sarà il Luca Comics Niente paura E' ora di salvare il mondo La tre cosa è Come mai è ferma A tre e quattro Nessuno lo è Salve Salve Come sta? Tutto bene? Come va la vita? Mi piace questo posto? Non lo so Allora Facciamogliela vedere Chi cazzo ho sparato in questo momento? Stai tutta andando per dritto Ok buono Io li torno già indietro In tempo Morto uno Morto due Io me ne vado Un attimo di essere tempo Ah no eh Dai Vieni la vita La vita La vita Dammi la vita Dammi la vita Buono Chi è? Ragazzi Io che scappo Velocissimamente Dov'è la vita? Dio signore Eccola qua Buono Buono Mi dispiace Sgranchi Ora vado Buono Buono Nooo Io stavo Sare di incisione 5 Ottico Vabbè Sgranchissime Nice Fatto Non vi libererete di me Visto 5 sare di incisione L'avevo detto che morivo poco Però vabbè Avevo piccato anche il ritorno in vita Però Io lo chiamo ritorno in vita Il ritorno indietro del tempo Sì Noi Sì Non si È il momento di sfogarsi Reparo il comitato di benvenuto no 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 mi sono lanciata di sotto vabbè non vale come uccisione mi sono uccisa io tana 88 grazie per il pollo buonasera mentre sono a lezione dell'università buon salve conosci monselice si lo conosco monselice abbiamo visto grazie per il pollo tans no non farò solo avrei guardate tranquilli allora oggi si oggi le live si divideranno tra due ore overwatch due ore fortnite e poi vedo se fare altre due ore the witcher e poi due ore d'acqua diciamo che oggi sarà una pseudo maratona non proprio maratona ma un pseudo perché comunque se io dopo due ore mi stacco vado a fare le cose eccetera eccetera perché poi io venerdì parto alle 3 per milano e rimarrò a milano tre giorni tornerò a casa domenica sera alle 21 letteralmente quindi sto cercando di fare più live oggi per cerco di fare più live oggi perché comunque sia anche se in teoria posso fare just checking la sera non so se sarò nelle condizioni per farlo capito ma proprio dal punto di vista sì lo so lo so potrebbero aspettarmi di più però vabbè diciamo che diciamo che ho sbagliato stavo a di stavo a di stavo a di stavo a di e quindi niente spero soltanto di cioè se riesco se non riesco non riuscirò a primare merda andiamo indietro ratio hai da disspec per un numero di cosa? ah ok pensavo che me lo parlassi male pensavo che parlassi male ma perché comunque sia molti dei miei specs sono persone che mi seguono per via del mio lavoro e vado io mi suicido sempre o comunque sia sono gente che mi segue la fortnite devo dire che ho avuto dei boom con fortnite abbastanza significativi soprattutto anche quello streaming che fesci appena usci la nuova season quindi diciamo che vengo da lì parecchi anche da tiktok si facciamo la modella e comunque sia diciamo che io pubblicito molto il mio profilo streaming su le mie piattaforme instagram e tiktok che instagram ho 24 no instagram ho 13.000 follower mentre tiktok il mio profilo ho 24.000 un po' meno allora senza suicidarmi possibilmente vado a prendere inerid ah se n'è andato allora si sta che se ne sia andato perché appunto eh è il suo cosa se non è ma che sta un dossier glielo chiederò merda allora io uso adesso merda no io non gioco fortemente la settimana ah c'è l'altra volta non c'eri oddio io ancora non ho capito come sganciare la bomba di tre preparo il comitato di benvenuto però beve sto sì ma cerco sì ma cerco per un sorriso ah ok però infatti non si si fa l'account il contello con la moderna sì ok ho risposto a tutti quindi che sia non alle 10 fortnite fortnite credo di portarlo oggi pomeriggio così almeno ci siete se no se comunque siete tutti a scuola non si può giocare quindi verso le 4 più o meno verso le 4 qui più o meno ah partita rapida coda ruoli partita rapida coda aperta coda ruoli selezioni il ruolo prima di giocare ma no facciamo così mi aggiungi allora hai anche il moroso impossibile non averlo ovvio che ho il moroso ovvio ah ok allora ci dovrei essere però non c'entra nulla essere belli per avere un moroso raga tutti possono avere il moroso per fortnite per fortnite tranquillo tanto faccio oggi pomeriggio così è lungo oggi pomeriggio ciao diavolo se è solo modello cambia modello ah buono ok allora ci dovrei essere ma infatti mi sono preparata per la missione tutta la gara più almeno ci siete fra una partita e l'altra poi più avanti perché oggi però ho avuto questa maratura domani credo che si numerò solo la mattina e credo che si numerò overwatch e just chatting e poi la sera se riesco no 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 di sicuro l'avrai avuta l'amorosa non è la stessa cosa suppongo e comunque sia i migliori sono destinati a restare soli però posso batterti in cucina oh si tratta oh tracer smettila di flirtare con diva tracer flirtava con diva cioè oh raga potevi prima sentire tracer a flirtare con diva e la madonna c'è un genji l'ho visto l'ho visto no 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 ma 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 perché mi cadi di sotto e anche il genji se l'ho giotto pronta all'opera ma per le donne adesso è una cosa più facile di tirare in molla in che senso no io sono fidanzata da quando cioè il mio ragazzo lo volevo da quando avevo 13 anni mi ha fidanzato da quando ne avevo 16 e si sta tuttora insieme non ha molto senso quello che hai detto è un po' madonna genji ammazzate quel genji madonna chi è un po' buono la serie quando trovi è stato l'amore sicuramente dell'amore no poteva continuare a fare il vincevo vabbè squadra annientata madonna squadra annientata così così proprio ci hanno ucciso tutti la madonna squadra annientata io non so sto facendo passeggiata simulator non trovo la gente vabbè è qua la pezza oh grazie oh grazie doppia visione ho fatto grazie merci sì sì vabbè raga io non ho dettagli per la cosa ma da un po' no no Buono, prendiamo Ciao Manuele Oh, lancia merda A me fa te Merda Ah, c'è l'acqua Bene, perfetto Dov'era la vita? Non è qui Ok, dai Dai, dai Vai 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 No, come ha fatto a ammazzarmi? Cioè, tutta la vita mi ha tolto Che one shot mi hai fatto? Vaffanculo allora Sì Sto giocando a Overwatch Dai, mi hanno fatto un po' a shot di Ellie Bastardo Ma posso andare di qua? Dov'è la gente Vedete Vedete Non sono le antidepressive Nell'alzare sta bomba? Eeeh No 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 Merda 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 Vabbè, però ho fatto Yes L'importante è quello Ciao Ciao Ultra Beagle Come stai? Rieccomi Mi sono mancata Anzo Al vostro servizio Ciao Anzo Come stai? Tutto bene? Questa è la vostra fine Questa è la vostra fine Eeeh 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 Cioè, vita qua? Si parte Vieni che c'è Eeeh Eeeh Si torna a combattere Eeeh Oh, ciao Eeeh Ah, voleva morire Cioè, invece di segui muori Cioè Cioè, che vita? Gli Eeeh 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 Gli Eeeh Eeeh Qualche vita? No eh Eeeh Eeeh merda 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 grazie sta chiedendo a le giapponese se mi fanno mangiare beh può trovare sushi anche al ristorante non serve che lo chieda le giapponese insomma è qui la festa allora io non ho capito da dove sparano buono a demora farei over più per quanto per un'altra 30 minuti un'oretta perché poi farò più o meno gli apocastiche ok è la madonna quanta vita in più avevo in ritorno indietro è la madonna perché c'è qualcuno si è abbastanza e si torna in gioco fai schifo comunque si abbia la frase prima che hai detto si sto giocando of the watch 2 raga ma state su twitch tranquillamente è la madonna genji mi è partito un gaggi nel capo no è of the watch si si sto giocando troppo sono morto adesso gli amici mi chiamano perseveranza esatto si persevera si parte la madonna si è qui ecco ammiriamo in mare ahhh è stato un periodo che giocavo a paradigme spesso sopra è dominata overwatch dei poveri quindi fa la madonna l'azienda yes sir infatti domani parte più di un anno e non può si rimarrà la play quindi farò solo just chatting la sera perché comunque sia tutti i lavori nel mattino pomeriggio la sera invece dormo dormi dorma si dorme e quindi streamerò just chatting la sera dove allungerò ogni posto allungo in un giorno diverso mentre domenica sera alle 21.45 sono a casa non va non me lo fa fare cosa non si fa fare si allora ultra beagle mi piaceva paradigme altro che overwatch dei poveri dacci un voto da overwatch a sto overwatch ma è gratis cioè per giocare gratis puoi farlo cioè non è male devi shoppare peggio di merrino su che è infatti su paradigme esatto niente paura niente paura è ora di salvare la camp a me me l'ha fatto fare stessa raga non ho avuto problemi non lo so cioè non lo so chiaramente cioè io ho avuto culo a quanto pare infatti processivamente la camp mi ha fatto entrare subito io non ho sì sono toscana non ho avuto problemi sicuramente 5 4 è da qui che si apre la porta vero non è che so avanti alla porta ok ok conquistate l'obiettivo free cookie se no mi agir se mi dai dei biscotti sono tua amica a vita però dipende che tipo di biscotti eh bisognava un attimo indietro è la madonna scappa tracer scappa la mia tracer fa le fughe tattiche proprio bonus ok tracer dalle fughe tattiche ecco quasi siamo più sicuri ma chi è che mi ha investito un'auto mi ha investito un'auto sono morta perché mi ha investito un'auto dai no fammi chiedere perché mi ha investito un'auto no allora ma penso però non si è mai giocato raga devo essere sincera e io ritorno indietro ahhh bonus esatto un due tre vai e se ritorno indietro 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 eh no ero in base come hai fatto a ammazzarmi se ero in base eh sì ma infatti è bloccato il finale segreto cioè è la madonna che cazzo che cazzo di colpo è qui muovi muovi è la madonna incattiviti eh dalla vita assurri a Lady Dimitrescu grazie grazie mille mi piace anche parecchio la Lady Dimitrescu saremo il fulmine che cavalca la tempesta vediamo un po' ci siamo veramente il fulmine che cavalca le tempeste riportarvi a casa vivi non è mio compito ma statemi vicini e ce la faremo lo stesso ah buono grazie a morire o tornare a casa vivi di norma no perché ho il lavoro soltanto che o che io andrò tre giorni a lavorare a Milano quindi non potrò streamare come faccio perché anche lo streaming è il mio lavoro oggi farò una pseudo maratona ma non sarà proprio una maratona o meglio farò due ore due ore e cioè due ore e tazzo due ore e tazzo due ore merda se me ne stavo indietro era meglio ma do sbagliato allora vediamo dove dobbiamo andare quindi poiché sarò tre giorni a Milano al lavoro diciamo oggi sto facendo una pista do maratona perché non sono un tiro ma no 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 mi hai salvato la vita merda bisogna sgranchi di cacca ok è tutto vinto il bancaio fatto e si torna in gioco ah si fa tutto che bello per voce 2 diciamo sì è carino ma i nemici sono molto forti cioè non si fanno letteralmente uscire da sotto la mia protezione sono parecchi attenzione è la madonna genji genji mi è volato in faccia veramente in faccia le volano genji devo essere minchia letteralmente volato vediamo un pochino c'è Ma si dai lo sapete cosa, ora vado di Moira, letteralmente mi ha scocciato un po' Tracer I'm good, oh? Happy that you are good, thank you Do you like Overwatch? Andiamo un pochino Ah, Kim's Row Preparate le difese Ah, a posto, hai già una Moira Dai dai, pigliatela, piccatela Buongiorno Il Molda, come stai? Niente paura, è ora di salvare il mondo Chi ha uno stuzzicadenti? Ah, ho un paio di matti d'incasperate Oh, Junkat, che bello, vado a giocare a Fortnite, una Overwatch Va bene, Andrew, noi ci becchiamo oggi pomeriggio, tutti sei per Fortnite Ah, guarda quanto è bello Junkat, guarda come zoppiga Sei uno dei miei esperimenti migliori L'adulazione ti porterà alla tomba Oh, ecco lì, sono lì, sono lì dentro gli stronzi 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Quena, volevi eh, volevi Ammazzate quello Allora, Mado Sono più di uno, vieni sono chicco e chi siamo lì in serie bene grazie per la cura andiamo i server dei due li hanno chiusi grazie per la tazza del caffè mi hanno andato in briga e torno al gioco a dove si è grande io ho fame devo fare colazione ancora colazione ma one shot veramente è arrivato ma chi spaccia lì gli amici mi chiamano perseveranza vieni qui toti si facce non ho capito che mi hanno fatto non nemmeno ce l'ho grazie boing e si torna in gioco guarda la miseria questo è uno sbagliato stavi guardando ieri sera mi ha scritto ma poi ti spiego sul discord ok spiega pure scrivimi in chat scrivimi in chat di risolve grazie merda ma ma dov'è una cura oh eccolo va molto meglio grazie 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 grande sto giocando a overwatch cazzo ho fatto tanto per scappare e poi mi ha buon che ho stato la nonna è a poligno si la conosco poligno ci ho lavorato qualche volta grazie grazie clemente vediamo un po' se riusciamo vince la le dubito le vado le vado le vado le vado 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 via merda scatena la tua forza interiore a che ha fatto il militare a poligno gli amici mi chiamano perseveranza ma qual è chi hanno fatto il militare a poligno ora che ci penso non so perché però non è la prima volta che mi diano che hanno fatto il militare a poligno è il militare a poligno e ma che stavamo vincendo io sono di spello sempre in ubria giusto? l'ho sentita a nominare ma non mi ricordo una donna? si ottimo ottimo ok quindi quelli del sud andavano a poligno a fare i militari ma perchè non c'erano cose militari anche con la poligno non c'erano Merda, sì grazie Nooo cazzo Hai provato la modalità delle occhi lì che si rinforza? No, però non ho provato la modalità della roba che si rinforzi Eeeh Overwatch Io no, ho sempre vissuto in Toscana Non è che adesso io in Toscana Ho sempre vissuto in Toscana Poi mi sposto per lavoro, Milano, Coelho, Roma, Bologna Una volta sono andata in Puglia, Caterno Ma di solito, ma di solito io abito in Toscana Ciao Ciao Venivano spostati con le bottiglie da qualche volta Eh sì, cioè Ho notato che i parecchi del militare venivano spostati parecchi Cioè, infatti mi chiedevo se c'erano sedi lì vicino Oddio Eh vabbè Adesso due screenshot della chat con Rikki quando ha tempo e dagli un'occhiata Non so chi altro ha scritto Anzi Chi ha contattato Mazzle Con Rikki? Rik? Aspetta, con Mabo o Rik? Vedi non spostatevo in Liguria, no? Ho lavorato qualche periodo in Puglia Diciamo che ho fatto dei Puglia di Puglia Io quando dico periodo ho fatto un pochia di Puglia E il mio lavoro non cerca di un periodo Diciamo lì A meno che non faccia un film Allora lì parla di due settimane, massimo un mese in cui sono in trasferta Sì, con Rik Hanno litigato tra di loro, immagino Hanzo! Abbiamo bloccato Hanzo, perfetto Che eroe usi? Allora Ehm Sinceramente adesso sto provando Straser E mi trovo bene Diciamo che faccio 5 serie di uccisioni Poi finisco morta Adel, ti ha contattato Mabo in questi giorni? Non lo so Non sono entrata sul Discord Perché ho lavorato parecchio E non ho controllato Ehm Comunque sia Ehm Questo A volte mi sto, ultimamente mi sto perdendo Ti consiglio Ninja Genji? E beh, Genji l'è rotto raga Genji è rotto Cioè l'ho visto anche io che Genji l'è veramente rotto Però... Ah sì Tracer e... Moira Moira Ma è difficile cosa Comunque sia fusillo controllo se mi ha contattato Mabo e poi mi fai vedere il tutto Tranquillamente Ricerca E che è successo? Ma... Non ho capito che è successo Buono Buono Ok Io sono un po' Perchè non... Perchè non... Perchè non... Perchè sono uscita? Ah Ancora lo devo occupare raga Quindi non... Non saprei dire Oh che carina quella con le orecchie da gatto Chi è? Eh... Sì ma continuavo a dire che sui ricerchi all'icona che ci dà Eh lo so però in realtà me la buttavo fuori Hai giocato qualche volta insieme all'avventura? Sì sì no Già Resident Evil e Tyrone sono state le mie fanci Mi piace però più di Resident Evil se prendo un gioco da paura Appunto... Preferisco... Ma non si può prevedere tutto Preferisco Devil Within o Amnesia e altri giochi Un pochino più veramente di paura Sarà una splendida missione Ecco Ci faranno come abbiamo fatto loro? Sì Cercate di stare al passo Carico il movimento Ok I'm so confused Sto cercando un po' di vita Cerco un centro di vita permanente Ma non la trovo Ok Ok è morto A qualcuno qua serve la vita Grazie Non fatevi beccare Bon Ok è mezzo... Merda 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 Vediamo che qua c'è la vita C'è la vita qui? C'è la vita qua? Dov'è la vita qui? Non c'è Oh si c'è Ecco Ok Ok Posso passare di qui Vediamo un po' A questo punto non so Torna al combattere Non vieni qui Nerdy Non può fermare gli eroi Siamo già stati Indicati coltile Un po' Un po' Siamo già stati Un po' 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 La tua squadra l'ha ucciso i tank e il supporto Vai, buono Così dai merda a giocarci, bello quello Giochiamo se vuoi giocare overwatch, yes sir Benissimo Perché Fortnite giocherò oggi pomeriggio Non più merda Merda Non più merda Merda, potevo di nuovo andare via per il tempo Dio signore Dio signore, vai Ma chi cazzo è la mostra di Genji? Sì Siamo in minoranza Ma dai C'è chi era di merda Non hai un attacco secondario No, ho solo I vari, i vari scatti Vari scatti Perché tracer e vari scatti Sì Attenzione, siamo meno di loro Assientiamoli Cazzo è vero Sì Ho vari scatti al secondo Che si può usare Sì Ma dai Cioè, one shot Ero piena Fullata Ok, ma non è possibile Che colpi Alcuni hanno i colpi one shot E gli altri invece Devono Trivellare 1500 volte Ma io tranquilla Mi ha messo la bomba Scoppiare Malissimo però Molto Il più verde è più amabile Sì 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 Io non so chi cazzo mi ha sparato Non è dubbio Oh, molto meglio. Ma no. Merda. Ma no dovessi provare a prendere di sorpresa il nemico, magari dal lato. Eh, infatti, ci ho provato, ma... Sto giocando a Oblivoc. Ci ho provato, ma non ha funzionato come doveva. Non ha funzionato per niente come doveva, ecco. Ci siamo la verità. Qua è un Genji Marco. Merda. Sì, vabbè, guarda come si mette. Riprovaci e sarai più sfortunata. Cioè. Uno contro la davanti, ma c'è anche il testo. Merda. Eccola. Sto accortando il carico. Teniamo il pochino. Merda. L'azione di disturbo. Vieni qua a te. Genji che la dava tipo dietro così. Ma bellino proprio. Trovaci e sarai più fortunata. Eccola. Allora. No, 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 no. Ho fatto una cazzata. Sto chiacchiando di passare. Qua non c'è nessuno, quindi... Se la stronza è quella lì... C'è l'uomo. C'è l'uomo. No, 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 no. Gli ho pregato sul tempo. Merda, stronzo Un colpo, per Anzu un colpo, per te Anzu one punch man, me l'ha vinto Anzu one punch man, letteralmente Cos'hai, mandarlo avanti Imbarazzante Minchia, uno di vita Che culo Che culo, come uno di vita Noi Perché sconfitta, ho fatto Tante uccisioni Azione migliore della partita Vai, Gangler Ragazzi, bravi Allora, come si fa a vedere Rapporto Rapporto morte Uccisione Anche io faccio una serie di ciclo Cessioni, scusa Perché a me non mi fa Mi metti mai Tramina Vai Perfetto Andiamo qui Pim bam Vediamo un po' Trasferimento a Eichenberg E siamo in Germania Della serie Germania Si va a Germania Aspetta, no, fermo Voglio provarmi da me Scusate Cioè Mi ha ucciso così tanto Vediamo Miro Alla devastazione Preferisco lavorare da sola Ma immagino che dovrò adattarmi Vediamo com'è Casomai Se muoio Non sono veloce come una volta Sono ancora la pistola più veloce del New West Sto andando Ci sono Ripiegare Seguitemi Ne ho vissute a centinaia di queste situazioni Sono indipesa Allora Ecco Ok Con questo Non condivido il personale Quando farò più uccisioni di tutti Ok Ok R1 L1 5 4 3 2 1 Lattato E iniziamo Non mi condivido Adesso tocca a me Allora Quindi io Sono un cecchino Letteralmente Dove è il cecchino Dove è la gente Dove è Adesso non sto facendo un cazzo Però va bene Importante Di fare un cazzo Fatto bene Molto Per quest'asta Scordare con il movimento Parfetto Sono indipesa Ok Mamma mia Che cosa è quello? Ok Questo per aver testimoniato Contro Overwatch La prossima Non lo so Dov'è Guidomir? Non ne batte nessuno Inebriante Vero? Tango eliminato Non ho capito come funziona Però va bene Nel dubbio Si va avanti Quindi Si può stare Ciao Alberugino Grazie per il pollo Ciao Anthony Cage Grazie per il pollo Il carico Ha raggiunto E' stato Buono Ottimo Hanno fatto tutto loro Mi fa piacere Che Prendo Guido Maher Che non lo so usare Vinciamo così Senza motivo Senza motivazione Non riuscivo ad andare indietro Non potevo Guarda Ciao Akiro Grazie Andrea Si sto giocando Overwatch Ragazzi Mi va passato Subito Sì Guardate Mi va passato Muoviamoci Sta per Pringere A distinzione Eeeh Vinta Cioè così Con Guido Sì Sono un nuovo pollo Eseguito Per caso Posso giocare Con te E fare una live Assieme Essendo per cui C'è anche io Un canale Twitch Ma Sì Tranquillo Certamente Non è nessun problema Possiamo fare Facilamente La live Un pollo Siamo Siamo Anche io Sono Nick Ma Sambiamo Dove Ah Ok Ciao Nick Allora Abbiamo sbloccato Anche Junkat Ok Sei pass battaglia Oh bellina Questa Anche la canzoncina E' simpatia Grazie per i pollo Ilobero Bibi Ok Quindi se copri e pace C'ho lei Buono Ottimo Mi fa piacere Ah C'è anche Deathmatch Partite personalizzate Schermaglia Buono Buono Non male Non male Io sto guardando La live Da scuola Grande Kiro E fai bene Fai bene Io vado Ciao Porto Ciao Bestie Voglio i Brawlers Guys Io nuovo In che senso che Brawlers Guys Buongiorno Gabriele No io vado di Tracer Basta che mi dai il tuo nome Overwatch appena è finita la partita Ah ok No Ardenchan Basta che copri il mio nome Twitch e hai il mio nome utente Overwatch Chardonnay Yeah Hey KRGGraphics Grazie per il pollo Gentilissimo Gentilissima Io faccio ho messo il sogno Sbagliato da scuola Purtroppo Devo uscire Bra Fortunatamente La pausa bagno Non dura per sempre Però una volta L'ho fatta Durare mezz'ora Ciao Grazie Sono Alessandra Graphics Uno studio che già ha lavorato Per molti streamer Come Dread Il Cebro E Checobomb Ah ok Fai le grafiche Cinque Quattro Tre Due Uno Attaccanti Agnettiamoli Alla madò Siamo già stati qui Siamo già stati qui Dai se vedi qua a lungo sia E la madò E la madò Madò Non se ne parla Merda 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 Il bello è che la prof Non se ne è accorta C'è una vista lunga la prof Veramente Ah di nuovo Brawl E dovrebbero stare scasso Ah ok Non giocando a Brawl Non avevo capito La tua battuta Scusami Ah madonna Ecco quello passa già Ah eh 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 oh Madonna Ma è vabbè ho cercato la vita Ma non l'ho trovata Zappa Ciao Non ti posso aggiungere Mi servono Butter tag Ma aspetta Oddio Quale butter tag Essendo nuova su overwatch Non me ne intendo Però ok Dopo vediamo Buongiorno Cosa giochi overwatch Radia Ah madonna Eeeh Ok Solo questo Tutto qui la vita Che mi puoi dare Oh Era accanto Era accanto alla vita Io ho una cosa Di 39 persone Io Come ho fatto Tutto in realtà Sono entrata Veramente Non ho avuto code Sono entrata su Marco Fada Grazie per il pollo Ma quel quadro dietro È la dilda di Superface No Ho trovato Subisce Non lo so Che cos'è Eeeh La madonna In nuovo c'è Tipo cosa simile Poi non mi è A caso Ho già fatti così Io la maschina E' un figlio Ok Buono Buono Eeeh Questa l'abbiamo persa Perché stanno sistemando I problemi della sera Per il più caldo Eeeh Fammi dover essere usato Tracer Sì Sto usando Tracer Eeeh Per i novellini Credo sia Ottima Però Anche con noi L'amico Carlo Andrea Grazie Poi L'umano Il King Alambo Grazie Eroi misteriosi 5 vs 5 Deathmatch Vado su Deathmatch ID Arden Chan Aspetti Aggiungo Eeeh Vero Vero C'hai ragione Allora Eeeh Guarda E' proprio Arden Chan Il nome utente Di Overwatch Quindi Non ha più palida idea Di C'hai ragione Scusami Partita rapida No Non voglio nessuna partita rapida No Nessuna ricerca Arcade Nuova regola Mappa Entra In arcade Schiena Triangolo Amici Ok Accanto fatto Schiena Triangolo Aspetta Aggiungo Schiena Triangolo A me C'è proprio Arden Chan Debra Il tuo nome In altro C'è un simbolo Che cosa devo fare Dimmi Devo fare Triangolo Ok Ottimo Ottimo Fatto Trovato Asterisco Hashtag Come si Non è l'asterisco Il tag 2326 Bono Ciao Manuel Il piacere mio A partite Annullare 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 Spero che l'hai visto Grande Io ho preso Il tracer Ciao Manuel Eh scusami Non avevo capito Infatti Tu sei ritenato Su un video dopo Combattete Niente paura È ora di salvare il mondo Ah Buono Ah Non ho capito Ma siamo tutti contro tutti Oh Madonna Vabbè Ma Genji Ammassa Che è un piacere Facile 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 Ci siamo già stati Madonna Ce l'ho fatta Ce l'ho L'ho shit 2 Guardate Quello Sto giocando A overwatch Overwatch Raga All nemico Servono 15 Uccisioni Per vincere Madonna Ah no Io ne ho fatta Solo una Si vola Ritorno al passato Attaccatevi Se avete Se avete Feccato Io ne ho Sono sempre Qui perdete Doro Guardate Vietro Torna Combattito Ci ripro E si vabbè Yujika 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 Eccolo Infatti Infatti Eccolo Siamo in 5 Siamo in 5 Sto facendo Minchia Yujika 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 Ma dai Ho fatto un sacco di assist Non me ne conta Manco mezzo Dai E tu mi hanno Stellato le kill Ma dai Aspetta la prossima Sì Sì Già Che resto con me È lavoro Dove resti con me Certo No problem Basta Prima di la richiesta Grazie Certamente Buono Ecco Allora fammi Fammi restare Tempo Dove sono Enemita Ok Ce l'abbiamo fatta Ma dai Mi ha washottato Mi ha washottato Arrendersi Dai Che cavolo Grazie Arri Grazie per l'adorazione Ok 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 Non ho capito Dove vengono Miju Siamo già stati vai addio al nemico servono quattro uccisioni al nemico servono quattro uccisioni al nemico al nemico servono quattro uccisioni come sono stata io quest'anno andiamo al lavoro pure bene yes sir yes sir vuoi come va tutto il posto maledetto Genki vai però è bravo è stato bravo ah io ultimo post perché ultimo posto mortiset ma scusa mi ha fatto più meglio di Michelo però vabbè a posto allora come mi avete inviato la richiesta su su overwatch cioè come si fa a vedere se mi avete inviato la richiesta di amicizia su overwatch perché non capisco in questo momento per invitare devi andare sul simbolo arancione ok ma me l'hai inviata te ok no il simbolo arancione non è credo per inviarmela ah perché non non avevi auto inviata ah inviti ecco inviti oh accetta bonus perfetto ho accettato qualcuno credo che sei tu eh si ho fortemente ma ci gioco oggi pomeriggio ci gioco oggi pomeriggio ci gioco oggi pomeriggio a fortnite tranquillo tranquillo comunque comunque sia io adesso dovrei staccare casomai te quando streami il pomeriggio diciamo che ti ho invitata ti ho invitata ok era quello di prima te quando streami il pomeriggio io porto fortnite just chatting multiversus e overwatch adesso e overwatch credo che lo riporterò domani mattina quindi domani mattina se ci sei si gioca wow ottimo se ci sei domani mattina si gioca domani mattina che poi io porto che poi io parto per milano anche ora fortnite oggi alle 4 alle 4 oggi sicuramente io adesso devo andare perché il condottiero grazie per il follow non lo so perché partiamo così però grazie mille per il follow io adesso vado che ho fatto le 2 ore 10 e ciao ritorno in streaming alle 4 o forse anche dopo pranzo andiamo a vedere Alessandro grazie per il follow ciao a oggi o dopo pranzo però sicuramente alle 4 ciao a tutti grazie per avermi seguita e essere qui grazie ciao ciao